Bella ragazzi! Allora oggi ho una bella revisione controllo da fare di un White M6 praticamente accendendolo accendendolo non si sente niente, ha malapena in cuffia sembra essere problema settore audio allora do un'occhiata dentro prima cosa da fare lo libero questo me l'ha dato un vecchio cliente che aveva preso 10-12 anni fa ha perso le chiavi di Matteo erano andati a caccia e allora tirato fuori il metal detector non andava adesso ci diamo un'occhiatina intanto guardo la batteria è carica, sono 12 volt abbondanti qui c'ho la mia lente di ingrandimento per vedere anche dentro sembra tutto a posto ah è un 2006 è un 2006 vediamo cosa può essere qui c'è che c'è metà al detto molto robusto tutti con la sua centralina in alluminio erano schermati molto bene qui mi vuole il cacciavite normale guardate dentro com'è l'M6 white m6 diciamo che i guasti più probabili sono i contatti adesso diamo una pulita a tutti i contatti così togliamo già un qualche difetto a tutti i contatti i metal detector fatti molto bene però ogni tanto qualche problemino ce l'avevano pure loro questo è fatto uno, due, tre questo perché il metal detector è bello usato poco per il mio è un falso contatto lo do anche qui nel preso al connettore anche nella bobina poi allora anche qua dentro vado a vedere ci trovo ah qui ho la cuffia allora questo posto, questo posto tutto pulito tutto sprayato guardate che c'era già la tecnologia montaggio superficiale sono metal detector che hanno 15-16 anni del resto anche la Garrett negli anni 90 aveva già il montaggio superficiale nella serie CX vediamo cosa succede non qui a qualcosa alla esquerda Grazie. Dunque. Dunque. Cosa c'è qua? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Tre soldi. Allora, qui c'è un problema nella sezione audio. io Alla prossima. E' buonissima. Senti che è morbida, come è morbida? E' buona, buona, buona. Se ero un cagnaccio me la mangiavo tutta. Io ho preso un pezzo da portare a mamma. Ah, ne fate due. Vado la io. Va pur là. Bene. Bene. Allora, qui c'è un problema nella sezione audio. Questo è il primo video. Facciamo fine primo tempo. Adesso cerco di recuperare gli schemi. Guardiamo negli schemi se c'è qualcosa nella sezione audio da fare un po' di riconoscimento dei componenti. Riconoscimento dei componenti con lo schema. Prima devo andare a vedere se ce l'ho. e poi continuiamo la riparazione. Voglio vedere. Allora, qui c'è un po' di riconoscimento dei componenti con lo schema. No. Niente. Adesso fermiamo il video. Guardiamo un po' lo schema. e poi dopo seguiamo i componenti a vedere di scoprire qualcosa. Bene. Ciao ragazzi.